Lazio-Roma, più di 3.000 biglietti staccati dai tifosi bianco-celesti. Intanto la Nord annuncia, guarderemo il derby tutti insieme. A breve, novità sulla location. Jinglespot, il Tribunale delle Romane, Rete Oro, Canale 18, tutti i venerdì sera. Sono più di 3.000 biglietti staccati dai tifosi della Lazio in vista del derby di domenica, come riferisce la consuliera segna stampa di Radio 6. La vendita non decolla e non decollerà. I supporters bianco-celesti allo stadio olimpico non saranno più di 15.000. Intanto è ufficiale, la Curva Nord organizzerà un raduno per vedere il derby del prossimo 3 aprile a tutti insieme. Per evitare complicazioni, come accaduto nel precedente meeting in occasione di Lazio-Atalanta, ancora non è stata resa nota la location. Uno degli esponenti della Curva Nord è intervenuto ai microfoni di L Radio. Durante la trasmissione i laziali sono qua per parlare proprio dell'iniziativa. Per evitare manovre di disturbo abbiamo dovuto usare una metodologia diversa rispetto al passato. Ci ospiterà una struttura che potrà contenere 1.500 o 2.000 persone. Ci sono stati posti dei paletti per la sicurezza e per l'organizzazione e per questo abbiamo deciso di effettuare un sistema di prenotazione nei punti vendita che abbiamo indicato. Per evitare però problematiche, come in passato, sveleremo il luogo solo nei prossimi giorni. Speriamo già da domani, ma al massimo entro sabato. Questo per evitare che in una struttura con capienza limitata si presenti un numero di persone che possa creare problemi di ordine pubblico. Tutti i venerdì dalle 21.30 alle 24 vedi il Tribunale delle Romane su Rete Oro, canale 18 e 518 del Digitale Terrestre. Il Tribunale delle Romane è su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube dove potrai vedere le ultime puntate. Vieni a trovarci!